Una vera e propria battaglia per salvare una colonia felina che è ospitata qui in questa area agricola di proprietà di un'associazione che si chiama La Gattara. Siamo a Ponte Allapiera, frazione del comune di Anghiari, Valtiberina Aretina. Ho acquistato un terreno con delle case dove all'interno c'erano 70 gatti, non miei. Quindi credevo che funzionasse come al nord, che vai, fai il riconoscimento della colonia, arriva l'ASL, ti fa le sterilizzazioni, insomma si avvia tutto quello che è il processo della tutela dei gatti. E invece ho aperto un vaso di Pandora perché qua giù non solo non c'è nessun processo di riconoscimento per i gatti, non riconoscono le colonie, è impensabile avere delle sterilizzazioni, ci sono tante altre associazioni che si sono battute per questo anche negli anni e quindi abbiamo fondato l'associazione per tutelare questi gatti che io avevo intorno a casa. Una scelta, quella di Eleonora, conseguente ai continui episodi di intolleranza nei confronti degli animali. Sono stati uccisi con la carabina nove gatti, io ho fatto denuncia alla forestale tre anni fa. Sono stati avvelenati una ventina di gatti e poi sono stati investiti di recente altri tre o quattro gatti, sono stati uccisi con la pala, ho dovuto fare qualcosa per tutelare questi gatti. Quindi in una situazione di emergenza ho detto che la gente non li vuole, li sposto in questo terreno di proprietà di mio suocero. Oggi il rifugio accoglie circa 40 gatti ma dietro alla segnalazione di un cittadino il Comune ha emesso un'ordinanza di demolizione per abuso edilizio e l'unica strada per l'associazione è il ricorso al TAR con una spesa iniziale di 6.000 euro. Quale abuso stiamo facendo? Quale abuso abbiamo fatto visto che non c'è cemento e non ci sono impianti e siamo in un terreno agricolo di Prato Pascolo? Eleonora preferirebbe una soluzione diversa. Prima fra tutti un colloquio con il sindaco Polcri che nella sua campagna elettorale l'aveva coinvolta per uno sportello animali. E solo in quell'anno lì nel Comune di Anghiare abbiamo fatto quasi 300 recuperi. Finita la campagna elettorale lo sportello animale è stato chiuso e ora vogliono abolire, demolire, chiamiamolo rifugio ma non è un rifugio è un recinto con una casina, insomma questo ricovero per i gatti. Ora in questo momento noi abbiamo bisogno che le persone si facciano sentire e che ci siano vicine proprio perché bisogna fare il cosiddetto un po' rumore perché ci sono a rischio questi gatti che un posto non troveranno un altro posto sicuro quindi abbiamo bisogno che il rifugio rimanga in piedi e quindi abbiamo bisogno poi del sostegno di tutte le persone che si facciano sentire perché l'interesse c'è però poi l'interesse deve rimanere vivo nel momento in cui poi il problema si pone e questo è il momento. Ma noi non abbatteremo niente, faremo venire appunto le ruspe, non apriremo i cancelli, sarà responsabilità del sindaco, del comune e dei cittadini che vorranno riliberare questi gatti.